Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Sidoti e sono un trader e un investitore, un imprenditore di origine ascolana. Oggi voglio fare questa testimonianza per il mio amico Emanuele Properzi e tutto lo staff di Self Publishing Vincente perché devo dire che mi sono trovato benissimo. Io vi presento anche il libro che ho pubblicato attraverso il servizio Hemingway di Self Publishing Vincente e non posso che essere soddisfatto non solo per il supporto che ho avuto prima, durante e dopo la pubblicazione del libro ma anche per tutti i consigli pratici che mi sono stati dati soprattutto dal punto di vista di marketing. Questo è un libro che è stato pubblicato da circa due settimane ed è tuttora nella lista dei best seller di Amazon. La versione Kindle è tuttora tra le più scaricate in Italia, tra tutti i libri, non solo quelli di economia e finanza di cui questo libro si occupa ma anche di tutte le altre categorie. Lo stesso vale per la versione cartacea, ne ho vendute già diverse copie senza particolari conoscenze di marketing o strategia editoriale. Il supporto che ho avuto è stato ottimo sia in fase di iniziale, Emanuele mi ha risposto e anche ci siamo confrontati diverse volte prima dell'acquisto del servizio vero e proprio dimostrando passione e interesse soprattutto verso il cliente, che è una cosa che manca spesso quando ci si rivolge all'editore, c'è un completo abbandono. Non è stato così per Emanuele, per Giovanni, tutti i ragazzi che hanno lavorato insieme a me nella pubblicazione di questo libro, che tra l'altro vi consiglio di leggere perché penso che sia scritto veramente bene. La pubblicazione è avvenuta velocissima, sono stato io a rallentare un po' le cose perché volevo un attimo organizzare prima e pianificare bene la strategia editoriale di marketing però in realtà in meno di una settimana il libro è operativo in tutte le piattaforme di cui il servizio propone. Ci tengo a fare una precisazione proprio dal punto di vista di marketing perché questo libro comunque, seguendo le strategie di self-publishing vincente e di Properza e di tutti i ragazzi dello staff di scrittore vincente questo libro è stato venduto, viene tuttora venduto e sta avendo degli ottimi risultati, senza un particolare impegno. Ci sono delle piccole cose da considerare ma Emanuele e i ragazzi vi diranno sicuramente tutto quindi non posso fra l'altro che ringraziare veramente Emanuele e Giovanni e tutti i ragazzi di self-publishing vincente perché sono riuscito finalmente a coronare il mio sogno e diventare un autore quindi grazie veramente ancora se sicuramente qualcuno dovesse chiedermi se conviene o comunque è consigliato pubblicare con loro la mia risposta è assolutamente sì lasciate perdere gli editori, concentratevi su di voi perché le royalties sono sicuramente più alte e comunque con il servizio di self-publishing vincente sicuramente sarete trattati molto molto meglio rispetto alla pubblicazione normale con un editore quindi grazie ancora a tutti e buona pubblicazione ciao